Ciao ragazzi e bentornati sul canale, oggi continuiamo con la serie di Far Cry 6 Dai, partiamo subito mi raccomando, iscrivetevi al canale, link in descrizione trovate tutto, vabbè dopo, a fine video, a fine video Allora, allora, parla con il contatto di One, devo raggiungere, ah è vero che dobbiamo farci mille milioni di chilometri Allora, allora, non c'è un metodo per, cos'è questo posto? Armonia, ah ok possiamo spostarci ora, una volta che raggiunge il posto possiamo spostarci con lo spostamento rapido Sì però io devo raggiungere, ammazza è tanto però eh, oh magari, seguiamo un attimo la strada, magari possiamo cercare un veicolo, non so, un mezzo, vediamo un attimo Ma ci seguo adesso, guapo, amico, non abbiamo ancora capito come si chiama E niente raga, personale, devo dire, personale, sì, ambientazione bellissima, tropicale così, adesso che poi finisce l'estate, entriamo nell'inverno Con il freddo giocare a questo titolo ti riscalda, ah no, cavoli c'era questo, vabbè, non l'ho visto Ah ok, c'è un cavallo, possiamo utilizzare il cavallo? Monta cavallo Ok, va bene, no Andiamo Vai cavallo Beh, perlomeno non andiamo a piedi Guarda come spingete, mamma mia A 30? Stiamo andando a 30 all'ora? Ma non lo so eh Pensavo di trovarmi un veicolo, un mezzo, invece no, siamo ritornati a cavallo Oramai No, 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 lasciatemi stare, altrimenti non raggiungo più quel punto lì Ecco il vivido, questo è il materiale Ok Che estrai dal tabacco, dalla foglia di tabacco, per quello che ho capito Si sposti, permesso Oh, scusi Non l'ho fatta, attenzione, qua c'è un mezzo, aspetta, vediamo Ma no, l'ho ammazzato quello No, non l'ho ammazzato Scusa zio, non l'ho fatto apposta Fratello, mi perdoni Aspetta, scendi, come si fa a scendere? Lo sto raccomando Smonta, ok Qui c'è un mezzo, io volevo Ma c'è da chi? Vai Ah, qua c'è anche del materiale Supera metallo Questo cos'è? Carburante Buono carburante Bisogna mettere le carburante anche nella macchina Ma no, che è che ha tirato giù il cavallo Andiamo Ok, attenzione alle spine stradali Guidando a tutta velocità con un veicolo attraverso un posto di blocco Distruggerai pneumatici Va bene Elimina tutti i soldati Distruggi il cartellone FND per conquistare il posto di blocco Quindi bisogna distruggere il cartellone e riminare tutti i soldati Una volta conquistato il posto di blocco Saranno disponibili un esploratore, guerrigliere dei veicoli Ah, molto bene Ok, dai, allora liberiamo il nostro primo posto di blocco Negativo Negativo Ok, posto di blocco sagrado Grado 1 Quindi teoricamente Ci sta leggendo la bomba Ah no, attenzione Qui c'è Ci ha visto Ma muori Sì, qua raga Fare le cose di nascosto sarà bella che dura Già lo so Ma lo giaglio di nonti Non credo Oh, salve zio, scusi Disattiva allarme Dai, dai Che lentezza Ok, poi possiamo Distruggere il cartellone Ma così? Come faccio di distruggere il cartellone, zio? Forse guidando Vediamo Ok Guidando Olè Primo posto di blocco Conquistato Posto di blocco conquistato Molto bene E ora dobbiamo raggiungere praticamente il posto Allora Allora dove devo andare Devo andare Oh, l'abbiamo per un passamento rapido Dove caspita devo andare? Allora, aspettiamo Sì Ah, e poi a destra Ok, e poi devo andare qua a destra Chiuso ovviamente Ma non c'è mai niente Ecco, vedi Cavalli liberi così che girano Bellissimo Non lo so, eh Mi sa che non va più sta macchina qua Ma dei rumori strani Ok, ci siamo Con l'antenna Questo dovrebbe essere l'antenna Allora, questo sentire della guerriglia Mi porterà il campo abbandonato Bene Andiamo Ah, bisogna fare un po' di parkour Ah, sono caduto Madonna, madonna Riproviamo, riproviamo Perfetto Ok, puoi anche sbirciare Salve Salve Paracadute 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 Puoi condurmi a un buon punto di osservazione Ok, devo seguire la zia La zia Raisa Andiamo Conscript or volunteer? Conscript My number came up So, I did my time You? Volunteer All I wanted to be was a soldier You know Wear the uniform Serve my country Found out the only kind of soldier Castillo wants Is a blind fascist addicted to his every word So, now you're a traitor Yeah And I'm not the only one There's a guard Posted at the watchtower ahead He's going to let us use it to scout out the fort He can also give us use for info What does he want from us? One Not to get his ass shot So keep your gun holstered or he'll open fire Two A little bribe to these double agents will get us military intel Niente armi, solo pesos Ok Alcuni soldati sono agenti dell'FND e hanno informazioni Vi poni l'arma, questo l'abbiamo appena fatto E corrompi l'agente FND con dei pesos di Arani Ok Prima di te paghi per mostrare le posizioni Salve Corrompi Ok, guarda questo Here's where you can find some weapons around here Hey, thanks Sguardi rivelate Va bene, va bene Qua non c'è niente da recuperare, vediamo C'è un giro anche qua sopra No, non c'è nulla da recuperare Ah, possiamo salire fino in cima Ma non è anche qui il punto dove è Ah no, proprio che devo raggiungere il punto di osservazione Recupera parti Ah, usa manco di lavoro Ok, raga, aspettate un attimo Perché adesso che abbiamo sbloccato il fucile di precisione No, arma seconda, arma principale 1 Dov'è? Arma principale 2 Ok, questo qua Fucile, fucile No Ok, questo che voglio mettere Voglio mettere Ecco, vedi Ah, fai da te Ah, ok No, non lo posso fare perché mi manca potere da sparo Vabbè, niente Volevo montare praticamente il silenziatore sul fucile da cecchino Perché così è praticamente inutile Allora, vabbè Poi condurmi a buon punto di osservazione Trovato Ecco qua il punto Allora Ok, quindi usiamo il telefonino per scovare Alla Assassin's Creed, tutte le guardie e l'obiettivo Eh, va bene Però più di così non è che si vede tanto, eh Questa guardia Qui abbiamo un altro All'esterno non c'è nessuno, giusto? No, va bene Usa la fotocamera e il telefono Ok, l'abbiamo capito Ma andiamo in solitario, ok Vi dover appunti Devole usare manco a lavoro per costruire e installare munizioni Sì, questo l'ho capito Allora, aspettate un attimo Pulire labbra e munizioni perforanti Munizioni perforanti Munizioni perforanti Ok, allora facciamo una cosa Siccome sono tutti vulnerabili a Mamma quanto parli, zia Mi stai già stufando Allora, vediamo un attimo Arma principale è quello che stiamo usando ora Questa qui E vediamo un attimo Spazio munizioni Vediamo se riusciamo a fare i Ok Installa, eccoli qua Però non ho capito Caricatore da 20 Penso che siano Penso che siano tutti i 20 20 proiettili, no? Questo cos'è? Ah, abbiamo sbloccato Vabbè, metticela, è carino E poi qua cosa abbiamo sbloccato? Qual è il tuo problema principale? Ah, ok, sì È un po' alla world Si possono personalizzare le armi Bella questa cosa, bella Spazio ottica Non abbiamo ottiche, vero? No, non ce li abbiamo Va bene Va bene, allora Tiriamolo fuori Ah, ok Quindi possiamo Andiamo allora Pam Ma io direi di fare un assalto Di quelli potenti Eh, raga, no Porco giura No, volevo Ma Bravo, vai Faccia stare il mio guapo Bravo Bravo, mi hai aperto la porta Che mi serviva Vai, così Porco giura Vediamo se riusciamo a salire Internamente Vabbè Vabbè Potevamo farlo Forse silenziosamente There it is The armory Volevo disattivare Più che altro L'alarme Permesso Ok Ok Non me ne recupera Oh Ok Tre ore Va bene Dai Guapo è a terra Come mai Valedetto Dai Entrano in questa Almeria Sono qua Ah, eccola qua Vai Posso prima Far così Serve una chiave Sì, è vero Però ce l'aveva il tizio Aspetta Ce l'aveva il tizio Non so dov'è Però è qua Eccola qua Bene bene Non è che devi gridare Ogni cosa che facciamo Però Poi mi vengono Quei colpi pesanti Interagisci Sì, va bene Tutti in pericolo Sono adesso Piede munizioni No Lutiamo tutto Prima di andarcene Raga Perché non so Se torneremo Poi qua O Poi vedremo Ok Possiamo andarcene Questo si No Lascia stare Guapo Boh Andiamocene Si usciva di qua Sì Di qua Chi li aveva visti Carica Carica Gostardo Cosa sono queste pezze Dai Muori Andiamo guapo Andiamo Torniamo al campo Vai Ammazza Cos'è Un cinquantino Oh Oh yeah One This is resolver Dani Depleted Uranium Soviets Left these sexy Byproducts Of nuclear Enrichment Behind in the 80s Yankees Use it For tank Armor And bullets Crazy Assholes Sounds Dangerous You'll be a Fucking Superhero Dani Lita And I Used to sneak These Into the Orphanage Essential Reading While waiting To fuck Up Convoys In the Mud A guerrilla Must be a sponge For inspiration Ok What the hell is this This Is a Supremo Supremo Cos'è un lancio missili It's like a rocket launcher Eh Si She does that too One more thing I want you to meet Il tostador Il tostador Raga Ce l'abbiamo anche noi So do I Hola Che vuelta Supremo So like a good lover Or a great sandwich Ok Ok Yes But I'm talking about layers Dani Head to the bar bench And I'll show you Andiamo a vedere Madonna Supremo Ma scusa Possiamo sparare Palle da baseball Ah ok Distrae i nemici Nelle vicinanze Ok Il incendiario Timorado Fa pure Granata della percezione Installa E il dispositivo Esplosivo Aspetta un attimo Scusa Sono curioso Invece questo qua Si Questo Venue gadget Qua invece Cosa possiamo installare Ah Questo non lo possiamo installare Ok Ok Qua invece abbiamo Aspetti diversi No Non abbiamo Ok Dai Possiamo continuare Dai facciamoci un'altra Un'altra missione Operazione completata Uranio O morte Apri la Ok Seleziona un gadget Lancia il gadget In uso Ok Ah ok Quindi è praticamente Un Un contenitore Dove tenere i vari gadget Guerriglia 2 Guerrigliera 2 Amiton Cacchifield Provece regime Per diventare più forte Per farlo Complete le operazioni Ok Conquisto obiettivi militari Distrugge Aruba Scorte militari E risorse Ok Perfetto Poi ovviamente Gli obiettivi militari E le conquiste Delle scorte E la distruzione Delle scorte Me le farò poi Off camera Noi ci dedichiamo Solo e esclusivamente Alle operazioni Principali del gioco Dai Va bene così Ovviamente Poi se volete vedere Cose diverse Secondarie O cose complesse Le potete trovare In Sul mio facebook Andate la cenocchiata Allora Vediamo cosa ci dice Stavolta Vai Aspetta un attimo Io volevo andare a vedere Abbiamo sbloccato Allora L'arsenale Posso le bracciare Ci possiamo mettere L'Emmilton Io direi di mettercelo Ci fa sembrare più professionali Poi abbiamo Amigos Sì abbiamo sbloccato Guapo No vedi si chiama Guapo Amigo da combattimento Ok quindi dice amigo Perché è un amico Che ti dà una mano Congeda No Beh Teniamolo C'ho riso raga Io c'ho riso però Cioccolato e c'ho riso Lo mettiamo intero Nelle colline Ah ok bisogna trovarlo No perché io c'ho riso Ce l'ho nel bundle Vabbè dai Parla Segui le indicazioni di Giulio Distrugge il campo di prigioni A Vivi Rodani Va bene ci sta Fuoco e furia Andiamo Non è neanche tanto distante Ovviamente voglio non uscire Ok Ok Tostador Mi dobbiamo recuperare Un po' di emulizioni Un po' di emulizioni Ok quindi se si è esposto Può danneggiarti I supremo sono potenti I supremo sono potenti Assolutamente questi Da Taiwan Che offrono abilità uniche Ok Ah oh è proprio lancia missili Il tipo è il supremo LB più RB Ok Eliminano i soldati Ricaricare il tuo supremo Molto pilapilamente Ok Ok Julio Julio Salve Julio I'm not gonna bullshit you I wanted to do this alone But Clara Give me an order I can handle myself Don't give a shit So could Lita She should be here right now But instead I get you And I'm supposed to be in Miami But instead My two best friends are dead And I'm stuck here with you So Truth Enough talk Step one We hit the tobacco Step two We destroy their poison supply Step three We get the fuck out of there And Castillo get a nice pretty message From Libertà Got it Take this gear He'll protect you from fire And more importantly Castillo's fucking poison Ok Quindi ci possono avvelenare Meglio indossare Allora Indosso i guanti Fuego E la maschera Asmat Ok Maschera Asmat Si l'ho già indossata Molto bene E poi Qua cosa abbiamo Vai I guanti Fuego Quando vai a fuoco Le fiamme si spegnono Ok Molto bene Quindi poi Se vai a fuoco Ti puoi spegnere le fiamme Qui sono i guanti Anti Anti scotatura Dai allora Vai Andiamo Messe Messe Allora Aspetta Questo qua E monizioni Fale Messe 16 Ah però Mi ha tolto Mi ha tolto Il precisione Va bene Segui Julio Andiamo Dai Si Ok Così Cosa è il viviero Poggiare le fiamme In l'air Fun fact Poison e fire Mica E' un mix Big Boom Same idea With the fumigators They're hard to kill But they can't take the heat You've got a flamethrower You've got that supremo Time to fuck up all this Baviro bullshit You know Lita and I had a ritual Psychos up before battle Ci sono altri Ok qua c'è l'antenna Hit me Il movimento De libertà Oh bella ciao Bella ciao Bella ciao Bella ciao 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 Va bene Andiamo Io preferisco Far fuori Questo qua No No vabbè Ci potruno Oh bella ciao Bella ciao Così proprio Allora Non ti preoccupare Fatti i cazzi tuoi Continua a lavorare Salve Ok Aspettiamo che scena dalle scale Tranquillamente Lei è proprio riso Tranquilla Bellissimo raga Bellissimo giocare con questa musichetta Allora adesso però Fin qua Vabbè l'abbiamo capito Se siamo riusciti a liberare Però dobbiamo entrare qui adesso Ok ci occupiamo tutto Prima dall'esterno Aspettiamo Qua ci si può entrare Qui qui Vabbè l'abbè Ma è bellissimo Questa cosa Ma è bellissimo Questa cosa Eh però Adesso come Ah no Li abbiamo ancora Attenzione che questo è quello che ci dà Che ci avvelena Maledetto Carica Carica Ok Vai bruciamo ste piante Si Si Quale il tabacco Me lo posso tenere No eh No eh Vabbè Va bene, però posso recuperare anche del carburante Ok, perfetto Andiamo Vai, col Tostador, qua Sì, ma che dubale, vengono eliminarli tutti così Vai così Carica, carica Estruggi tutto, spacca tutto Uh, buono Vai, che esplode, sì Ok, ci siamo Va, devo recuperare un po' di munizioni Cos'è questo, recupera chiavetta USB Lo tieni Vediamo Riesco a colpire Ora ci siamo Ora ci siamo Ora sì Lo dicevi prima Olè Andiamo, andiamo, andiamo Spero che questa canzone ovviamente non mi segnali il video, ma sicuramente sì Però non importa, vabbè, anche se mi segnalano il video Cioè, ci stava, ci stava Piacciamo anche a Julio adesso Ok Operazione completa Boh, dopo tutto a sta catastrofe che abbiamo fatto Possiamo anche comunque terminare l'episodio Perché Vedendo, scherzando, ci siamo fatti un'ora di registrazione Poi dovrò sclerare A ridurre il video Oh, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio Spero che Far Cry vi stia piacendo Iscrivetevi al canale Supportate tutto ciò Link in descrizione per i social network Noi ci vediamo al prossimo video Ciao, belli Ciao